Ieri mattina c'è stato un sit-in ed innanzi la prefettura dei lavoratori del centro di Pian del Lago, relativo al mancato pagamento di ben quattro mensilità e che avevano indotto uno sciopero sino alla giornata odierna. Dopo l'incontro in prefettura nel quale è stato rappresentato loro l'avviamento delle procedure di pagamento ai lavoratori di tutti gli arretrati da parte della cooperativa S4, i sindacati hanno riunito i lavoratori interessati, i quali con compiacimento hanno ritenuto soddisfacente tale notificazione, quindi hanno deliberato di sospendere lo sciopero. Abbiamo effettuato già due incontri con l'azienda e grazie alla fermezza di Sua Eccellenza il prefetto siamo riusciti ad ottenere un accordo che prevede il pagamento in tempi rapidi di quelle che sono le aspettanze dei lavoratori. A tutt'oggi non avevamo ricevuto notizie alcune del fatto che l'impresa avesse iniziato appunto le procedure perché soddisfasse i lavoratori per le mensilità di cui abbiamo detto. E quindi abbiamo effettuato la prima giornata di sciopero. Durante questa manifestazione siamo stati ricevuti dal prefetto Vicario il quale ci ha assicurato attraverso delle telefonate, un'indagine che ha fatto poco prima di incontrarci che certamente le somme pagate dalla prefettura sono arrivate all'azienda e che l'azienda proprio qualche minuto prima di incontrarci l'avesse assicurato che già aveva iniziato questa mattina a intraprendere la procedura perché si potessero soddisfare i crediti dei lavoratori.